VALTELLINA INANZIA Gli organizzatori rassicurano sull'edizione 2018 del trofeo Chima. La frana di Preda Rossa non ha mai messo a rischio la competizione. A parlare degli anni di piombo Massimo Coco, figlio del magistrato ucciso dalle BR. Nel suo libro si affronta la tematica del perdono. Il campionato di eccellenza si è di fatto concluso con due giornate di anticipo. Sondrio, promossa in D, spicca per l'assenza di rivali. Buonasera e benvenuti ad una nuova edizione del telegiornale di TSN. Apriamo quest'oggi con il cambio ai vertici della Fisi. Tra i candidati alla carica di presidente, anche il valtellinese d'adozione Franco Vismara. Molte le idee che potrebbero andare a modificare il comparto economico legato agli sport invernali. Vediamo il servizio di Michele Broggio. La provincia di Sondrio guarda con apprensione alle elezioni dei vertici della Federazione Italiana Sport Invernali, previste per il 22 aprile prossimo. Quattro i candidati alla carica di presidente della Fisi. Flavio Roda, presidente uscente in carica dal 2012. Claudio Ravetto, ex direttore tecnico della Nazionale di Ski. Maurizio Paniz, già parlamentare di centrodestra. E Franco Vismara, patron degli impianti di risalita della Val Malenco. Un cambio apicale dell'organismo che si occupa della gestione degli sport invernali, 14 le discipline che fanno capo alla federazione dallo sci allo snowboard, potrebbe modificare profondamente il comparto economico di maggiore interesse per il territorio valtellinese. Molti i punti su cui i quattro candidati confrontano le proprie proposte in queste ultime frenetiche ore di campagna elettorale. Non penso di essere il presidente più adatto, però credo che il sistema vada cambiato. Il settore maschile in questi anni è andato indietro, è andato molto indietro. Rimangono in continuità con il passato le proposte del presidente uscente, che punta sulla ricostituzione del fondo di riserva, sulla modernizzazione dei sistemi di iscrizione alle gare e sulla centralizzazione dell'amministrazione. A chiedere un drastico cambio di rotta proprio su questo tema è invece Maurizio Paniz, che punta ad una maggiore attenzione per gli sci club. Tema centrale anche per Franco Vismara, che propone la creazione di un contatto diretto tra i vertici e la base. Se verrò eletto, sottolinea il candidato, spero di riuscire a portare nella nostra provincia altre gare internazionali. Non intendo rubare manifestazioni sportive ad altre regioni italiane, prosegue Vismara, ma vorrei riuscire a portare in patria alcuni degli eventi che si tengono all'estero. Ed ora la cronaca che ci porta quest'oggi in centro città. Attimi di paura per uno spettacolare incidente in Via Banoni, nel quale è rimasta coinvolta una moto. Ecco le immagini e dettagli in questo servizio di Enrica Praolini. Attimi di paura nel primo pomeriggio di oggi in Via Banoni, a Sondrio, dove passanti e soccorritori hanno temuto il peggio davanti allo scontro fra una moto ed una macchina. Fortunatamente l'incidente, seppur serio, non ha avuto conseguenze irreparabili per il Centauro, che naturalmente ha avuto la peggio, mentre l'automobilista, una donna di nazionalità straniera, se l'è cavata con poco. Il motociclista, 40 anni, di Sondrio, in sella ad una moto Morini Corsaro 1.2, ha riportato traumi seri agli arti superiori, ma non è in pericolo di vita. Alla polizia stradale, intervenuta sul posto per i rilievi di rito, spetta ora il compito di ricostruire la dinamica esatta e le cause dell'accaduto. Insieme a Polstrada e 118, sul posto sono accorsi anche gli agenti della polizia locale, impegnati nella regolazione del traffico. La strada, che porta in centro città, infatti, è sempre molto trafficata, in special modo a quell'ora, quando riprendono le attività di uffici e negozi. Si accende la polemica sulla realizzazione del sottopasso a montagna in Valtellina. L'amministrazione comunale, nei giorni scorsi, ha presentato il progetto che prevede l'eliminazione delle sbarre in località Trippi. Al suo posto, un sottopasso soltanto ciclopedonale. Cittadini a minoranza sul piede di guerra. Il progetto renderebbe l'area industriale completamente isolata. Vediamo il servizio a cura di Elisa Compagnoni. Il sottopasso di montagna, come il passaggio livello che potrebbe essere dismesso, divide comuni e cittadini. Nei giorni scorsi l'amministrazione comunale ha presentato il progetto che prevede l'eliminazione delle sbarre in località Trippi, da sempre passaggio ostico della circolazione. Qui le sbarre si alzano e si abbassano con frequenza, costringendo veicoli ad attese interminabili, per non dire degli innumerevoli guasti. Ma dove è nata la contrarietà di un progetto che prevede la realizzazione di un sottopasso molto più sicuro e snello rispetto ad un passaggio livello? Il grosso problema a queste le ragioni di chi si oppone è che il prospetto ideato dalla maggioranza prevede la realizzazione di un varco soltanto ciclopedonale, per cui non percorribile da automobili e mezzi pesanti, relegando la zona industriale al più totale isolamento. Gli esercizi commerciali presenti nella zona preferiscono non parlare di fronte alle telecamere, ma indubbiamente sono sul piede di guerra. C'è chi ha avviato una raccolta firme che ha raggiunto quota 300 per contrastare l'opera che è già stata approvata. Ovviamente i pareri cambiano quando si parla della realizzazione di un passaggio livello carrabile. Estremamente contrari anche i consiglieri di minoranza, che lamentano l'incapacità di gestione politica e amministrativa del Comune. Il Sindaco e la sua Giunta, questa l'accusa del consigliere di minoranza Paolo Accoto, hanno presentato il progetto soltanto a carte fatte, senza coinvolgere l'intero consiglio e soprattutto la cittadinanza. Ad una chiusura di un passaggio livello prosegue, dovrebbe essere garantita un'alternativa valida che non danneggi il futuro delle attività e delle imprese. Nell'incontro tenuto sui fra Comune e cittadinanza, l'amministrazione ha presentato un nuovo progetto che prevede l'ampliamento dell'area artigianale con l'insediamento di nuove attività, nel quale spunta anche alla realizzazione di una rotonda sulla Statale 38, nei pressi dello svincolo che porta a Faedo. L'opera in questione permetterebbe, nelle intenzioni, di risanare la situazione di isolamento della zona artigianale, ma attualmente, spiega di nuovo l'opposizione, la pratica si è fermata. E la minoranza attacca. I commercianti non possono aspettare. Di certo l'amministrazione comunale non pagherà loro i danni che subiranno in questo periodo di isolamento. Chiara la difesa che giunge dalla maggioranza. Il progetto è in cantiere dal 2011, spiega il sindaco Angelo Di Cino. Il comune è stato richiamato dalla prefettura per la chiusura dei passaggi livello ai fini della sicurezza. Purtroppo, non vi sono spazi necessari che possano consentire la realizzazione di un sottopasso carrabile. Siamo consapevoli a proseguito che la chiusura del passaggio livello metterebbe in difficoltà le attività posizionate nella zona artigianale. Stiamo comunque già valutando delle soluzioni che possano limitare le ripercussioni sulle imprese, tra questi dagli sgravi fiscali. Il prospetto dal valore di 904 mila euro è finanziato per buona parte da regioni Lombardia e comunità montana con una sovvenzione anche da parte di Rete Ferroviaria Italiana per la chiusura del passaggio livello ed una quota fornita dal comune di montagna. E vi ricordiamo che tratteremo ancora nell'edizione di domani l'argomento sottopasso a montagna in Valtellina con un approfondimento durante la nuova edizione. Sono definitivamente dissipati i dubbi riguardo all'edizione 2018 del trofeo Chima. La frana di Preda Rossa non ha mai messo a rischio la manifestazione sportiva che risulta essere confermata. Michele Broggio Confermata l'edizione 2018 del trofeo Chima la corsa avrà luogo il 26 agosto prossimo. Al momento specifica Maurizio Torri responsabile dell'ufficio stampa della competizione di Skyrunning la manifestazione è confermatissima. In questi giorni, prosegue, siamo impegnati per selezionare i 300 migliori atleti tra le oltre 1000 candidature che ci sono pervenute. Numerosissimi gli sportivi che chiedono di partecipare alla gara di corso in montagna organizzata per la prima volta da Hilde Marchetti nel 1994 in memoria del fratello Pierangelo alpinista esperto morto tragicamente a soli 31 anni. A causa di restrizioni dovute alle misure di sicurezza e all'estrema difficoltà del tracciato i partecipanti devono affrontare più di 8.000 metri di dislivello solamente i migliori vengono ammessi alla durissima competizione. Nei mesi scorsi la minoranza consigliare del comune di Valmasino aveva espresso seri dubbi riguardanti la buona riuscita dalla manifestazione di Skyrunning fonte delle preoccupazioni la frana che durante la scorsa estate aveva colpito la località Predarossa andando a dostruire parte del tracciato di 52 chilometri lungo il quale sono soliti sfidarsi atleti di fama internazionale colpevole della criticità che ancora permane secondo la minoranza sarebbe l'amministrazione comunale di Simone Songini responsabile di non aver ancora liberato il passaggio La strada, commenta il sindaco, è ancora chiusa ma il torneo non è assolutamente a rischio a rassicurare sull'edizione 2018 della Corsa in Montagna anche il presidente dell'Associazione Chima Ilde Marchetti l'organizzazione del torneo spiega non è mai stata messa in discussione Noi siamo strettamente apolitici prosegue e non vogliamo in alcun modo entrare nelle dispute del Consiglio Comunale qualora dovessero emergere problematiche sono certa che sapremo risolverle soddisfatto del rientrato all'arma Pietro Taeggi consigliere di minoranza siamo contenti afferma di sapere che Chima non è a rischio E parliamo ora di politica e della prossima tornata elettorale Stefano Piasini ha presentato oggi la propria candidatura per la carica di sindaco di Albosaggia oltre al suo per il momento sono certi i nomi di Graziano Murada e Fausto Giugni vediamo Ad Albosaggia prende sempre più corpo e si avvia così verso il completamento la lista dei raggruppamenti politici in vista delle elezioni amministrative del 10 giugno prossimo Stefano Piasini 45 anni candidato a primo cittadino del Comune Eurobico guida la lista composta dalla maggioranza uscente della precedente amministrazione comunale quella che lo scorso 2 febbraio con 7 consiglieri su 13 sfiduciò l'allora sindaco Fausto Giugni anche gli illizza per la nuova tornata elettorale Noi a tutti gli effetti siamo la lista di maggioranza uscente naturalmente io in questa fase mi presenterò come candidato sindaco e poi la nostra lista sarà diciamo completata con new entry più che altro giovani motivati che hanno portato un sacco di valide proposte ancora nebulosa l'atmosfera che circonda i numeri effettivi delle liste e tutti i nomi dei candidati alla guida del centro alle porte di Sondrio attualmente retto da un commissario prefettizio ad emergere per certi oltre a quello di Stefano Piasini i nomi di Graziano Murada e Fausto Giugni gli obiettivi principali che ci si propone con questa lista? ma gli obiettivi principali di sicuro noi ci rivolgiamo diciamo ai bisogni innanzitutto dei giovani ci rivolgiamo soprattutto ai giovani perché siamo sicuri che sono le generazioni presenti e future che dovranno portare avanti il nostro comune e in questa fase poi ci rivolgiamo anche teniamo soprattutto in grandissima considerazione il mondo dello sport e dell'associazionismo perché sono due settori in albosaggia di grandissimo fermento e portano avanti diverse questioni che sono importantissime diciamo anche per il futuro del paese poi mi sento di dire che naturalmente ci sentiamo di dire che in questa fase noi non ci dimenticheremo di nessuno entrando magari un pochettino più sul concreto naturalmente le nostre priorità anche la manutenzione del territorio e del patrimonio dopo quasi un anno di chiusura l'informa giovani di Sondrio si rinnova e cambia sede fra le numerose novità proposte dallo sportello informativo dedicato ai più giovani appunto lo spazio estero e quello TIN i dettagli nel servizio orientamento formativo ed esperienze lavorative sono le maggiori esigenze richieste dai giovani di Sondrio che oggi si affacciano al panorama occupazionale sulla scia di questi bisogni crescenti l'informa giovani del capoluogo amplia la sua attività e cambia sede trasferendosi nella struttura della biblioteca Pioraina punto di riferimento di aggregazione per ragazzi e studenti dopo quasi 8 mesi di stallo il centro affidato al consorzio Il Sorco si rinnova e si presenta al pubblico con le sue numerose attività in cantiere tra queste e lo spazio estero frutto della preparazione degli ultimi mesi all'interno di un percorso di alternanza scuola lavoro condotto assieme a 4 studenti del capoluogo Offriremo ai ragazzi la possibilità di fare consulenze su esperienze di studio all'estero quindi sia a livello universitario che di scuola secondaria di secondo grado ma anche esperienze di lavoro alla pari campi di volontariato e già oggi c'è questo evento oggi pomeriggio sul tema del lavoro in Australia e abbiamo creato una bellissima come dire varietà di offerta e ci sentiamo preparati nel consigliare ragazzi giovani e famiglie rispetto a queste esperienze Lo spazio estero non sarà l'unica bussola offerta al crescente numero di giovani soprattutto adolescenti che periodicamente si rivolgono allo sportello ben 200 ragazzi che hanno fatto riferimento lo scorso anno ad Informa Giovani con altri 1000 coinvolti in progetti ed iniziative Il fatto che siamo in biblioteca che è un luogo comunque frequentato e la biblioteca di Sondrio ha una visione di apertura molto bella molto importante anche rispetto al territorio e il fatto di avere dei ragazzi stessi che ci aiutano nel promuoverlo utilizzando anche i loro di canali mi viene da dire quelli più attuali più affini diciamo a quelle che sono le loro caratteristiche di comunicazione e il fatto di portare ambiti su cui molto diversi e variegati ma di effettivo interesse per i ragazzi su cui portare informazioni secondo noi unita alla preparazione degli operatori che lavorano lì sono gli ingredienti vincenti per riuscire ad arrivare come dire ad essere un bel punto di riferimento per i giovani e i ragazzi del territorio Tra le altre novità lo spazio TIN dedicato ai minori e alle famiglie interessate a svolgere esperienze estive in Italia e nel resto d'Europa Lo sportello sarà aperto lunedì dalle 16 alle 18 ed il mercoledì al venerdì dalle 14 alle 16 La pagina della cultura ci riserva questa sera l'intervista ad un ospite che ci guida attraverso un tema non facile parliamo degli anni di piombo con Massimo Cocco il padre del quale fu il primo magistrato ad essere ucciso dalle Brigate Rosse quando l'autore aveva soltanto 16 anni ecco la margine della sua conferenza presso la Banca Popolare di Sondrio ospite del Sor Optimist Club Enrica Praolini ma quale perdono Massimo Cocco musicista e compositore docente al Conservatorio di Genova figlio del primo magistrato ucciso dalle Brigate Rosse non ha usato mezzi termini pur nella sua pacatezza e anche a Sondrio come fa ad ogni piesso spinto fin da giovanissimo ha messo sul tavolo parole dure come rancore rabbia dolore e lutto Ricordare stanca ha confermato sulla scia del titolo del suo libro ospite del Sor Optimist Club presieduto da Lorena Bonetti ma non dobbiamo rinunciare ha detto al ricordo seppur a tratti più intriso di fatica che di dolcezza Ricordare stanca come ho sempre detto perché la memoria è un dovere il dovere è una fatica una fatica certo soprattutto per persone come me che ha avuto un passato fatto di dolore di rimpianto di sofferenza per quello che abbiamo subito e il ricordo che non si può cancellare è una grande fatica ma poi è un dovere è un dovere per tutti ricordare dovrebbe esserlo anche per chi si è macchiato di fatti di sangue di gravi responsabilità in quel caso dovrebbe essere un esame di coscienza per tutti è un percorso indispensabile e faticoso devo dire in un periodo in cui c'è molta tensione sul ricordo e questi periodi forse sono il momento migliore perché purtroppo il ricordo è di tutto l'anno e di tutti gli anni e quando è vissuto in solitudine è sempre un fardello particolarmente pesante una conferenza quella svoltasi nella sala besta della banca popolare di Sondrio alla quale non ha voluto mancare il presidente dell'istituto di credito Francesco Venosta che ha messo in primo piano molti aspetti a tratti anche dimenticati dei cosiddetti anni di piombo dall'assassinio di Francesco Cocco in poi per arrivare fino ai brigatisti condannati anche a più ergastoli eppure ha sottolineato Cocco liberi quando non impegnati in ruoli anche politici e su tutte una parola perdono il mio punto di vista personale visto che il perdono è una cosa personale è che esiste un perdono anche quello pubblico come quello della legge quando si parla di una riconciliazione è possibile solo in un modo chi ha commesso un crimine si deve riconciliare con la legge del paese dove ha commesso il crimine ci sono delle condizioni che sono irreversibili e ci sono anche delle situazioni che sono a cui non che sono imperdonabili esiste anche l'imperdonabile se proviamo a fare una scala di valori non siamo disposti a perdonare tutto a tutti scuole e polizia alleate contro il fenomeno del cyberbullismo gli istituti della provincia sono capofila del progetto finanziato da Regione Lombardia prime in tutta la regione le scuole della provincia di Sondrio hanno creato una rete informatica per contrastare il cyberbullismo fenomeno sempre più diffuso fra i giovani nella realtà della provincia di Sondrio e del capologo non si riscontra ecco in maniera aggressiva il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo certo ci sono stati degli episodi si registrano degli episodi ma non tali da testare un allarme sociale questa rete è stata istituita lo scorso autunno per individuare degli strumenti ottimali ai fini di prevenire questi fenomeni il nostro approccio vuole essere soprattutto operativo vuole puntare sulla mutua collaborazione degli studenti il progetto si chiama io conosco tu conosci in rete consapevolmente ed è costato a Regione Lombardia ente finanziatore dell'iniziativa quasi 400 mila euro nei mesi scorsi la prima fase attuata con la formazione di 38 docenti uno per ogni istituto provinciale poi è stato presentato il secondo step del progetto attraverso il sito internet nobullying help i singoli plessi scolastici condivideranno tutti i dati inerenti al cyberbullismo raccolti dai vari referenti locali quanti casi quali vittime e quali metodologie ciò significa armonizzare le conoscenze le competenze e le capacità di affrontare in modo organico quel fenomeno legato ai nativi digitali che in questo momento come la cronaca di tutti i giorni amplifica può determinare per i ragazzi grandissimi problemi fino agli atti più estremi quali la morte l'iniziativa è perfettamente in linea con la legge 71 del 2017 che tratta proprio della lotta della prevenzione e del contrasto al fenomeno del cyberbullismo riteniamo che la prevenzione sia diciamo lo strumento principale per contrastare questo tipo di fenomeni criminali prevede una serie di strumenti che agiscono proprio in chiave preventiva sostanzialmente più che repressiva anche perché la legge si concentra sulle ipotesi che sono purtroppo molto frequenti di minori autori di cyberbullismo di atti di cyberbullismo sono davvero molte le opportunità che è possibile cogliere vivendo all'interno dell'Unione Europea questo il tema al centro dell'incontro che si è tenuto al Policampus di Sondrio servizio di Elisa Compagnoni in un momento decisamente critico per l'Unione Europea in cui rigurgiti nazionalisti e indipendentisti riemergono in buona parte dagli stati membri Italia inclusa il movimento federalista europeo cerca di correre ripari e rilanciare le sorti dal gruppo nato nel lontano 1958 ma ora ha bisogno di una nuova linfa che arrivi dallo spirito innovativo dei ragazzi questa mattina presso il Policampus di Sondrio un incontro ai giovani in Europa ha cercato di stimolare gli studenti ad un approccio propositivo nei confronti della comunità europea e delle possibilità da esse offerte il tutto attraverso la testimonianza diretta di tre ragazzi appartenenti a realtà distinte ma uniti dalla voglia di confrontarsi e aprirsi al mondo le opportunità sono con il programma Erasmus Plus dell'Unione Europea che finanzia dei progetti di breve periodo in cui si può andare all'estero in vari paesi europei e lavorare insieme ad altri giovani su tematiche come la sostenibilità ambientale l'intercultura le migrazioni e vari altri temi oltre a Righetti sono intervenuti pari a Bagheri Mogadam iraniana ora trasferitisi a Firenze per esigenze di studio e Aziz Savadogo che ha avuto l'occasione di conoscere l'isola del Vento Tene culla del federalismo europeo è molto affascinante perché ogni conversazione c'è qualcosa da imparare e ogni volta che ti metti con una persona una realtà una cultura sconosciuta ti rendi conto che quello che pensavi più o meno non è la realtà che loro stanno vivendo perciò per me è diventato molto importante avere delle idee alla base di ciò che dice una persona locale e non avere le interpretazioni personali è stata un'esperienza senza alcun dubbio importantissima per la mia formazione personale e soprattutto anche europeista in questa mia esperienza sono riuscito ad entrare in contatto con quella che è la realtà dell'Europa quella che è l'identità europea grazie anche al fatto di aver trovato diverse amicizie in un contesto che ha una simbologia importantissima per l'Europa e dunque per il nostro futuro Regna la soddisfazione tra i dirigenti del Sondrio Calcio i Biancoazzurri si sono guadagnati una meritatissima promozione in Serie D con due giornate di anticipo Michele Broggio Sondrio vuole in Serie D con due giornate di anticipo sulla chiusura del campionato dopo due anni tra le squadre di eccellenza i Biancoazzurri riescono a festeggiare il ritorno nella categoria superiore il pareggio conquistato sui prati lecchesi del Nibionogiono domenica scorsa e valso al team allenato da Luca Colombo la promozione la prima serie semiprofessionistica Molta soddisfazione ci siamo impegnati tanto durante tutto l'anno per costruire una squadra di vertice ce l'abbiamo fatta i miei complimenti a tutto allo staff ai dirigenti all'allenatore ai giocatori è una grande soddisfazione per tutta la città di Sondrio e le ragioni per festeggiare sono decisamente molte grazie all'immediato feeling venutosi a creare tra il neo allenatore Colombo arrivato sulla panchina del Sondrio solamente a settembre e la squadra i risultati non si sono fatti attendere i Biancoazzurri hanno intrapreso fin da inizio campionato un'inarrestabile scalata verso i vertici della classifica mantenendo l'imbattibilità per tutto il girone di andate per le due prime giornate di ritorno Villa Dalmè e Trevigliese le uniche due squadre che sono riuscite a porre un freno all'ascesa dei ragazzi di Colombo con la partita di domenica però si chiude di fatto il campionato che si è rivelato essere per il Sondrio privo di rivali e questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale non mi resta che darvi appuntamento alle prossime edizioni del TG di TSN buona serata Grazie a tutti